È cercata a lunedì, portate una serie a questa regione per favore, si devono un po' sederla. Vi siete musico la scenotecnica, Corco, come è possibile state qua? Io stasera sono un po' emozionato, stasera sono un po' emozionato perché presentiamo un artista a cui io sono particolarmente legato, io so tutto di lei. Cioè io ho studiato, ho studiato la sua biografia, a discografia, decografie, c'è tutto. A questo punto perché non dare qualche informazione? Diamo qualche informazione, ma io ho studiato, io so tutto, quindi mi puoi interrogare su qualsiasi cosa. L'artista di questa sera è nata a... È nata a... perché è femmina. Sera... Dove? A G? 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 No. 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 Va. Sì. G? Aiutatemi. G? G? No. E' nata a G? Non sai niente. Non sai niente. Mi dà quel tempo di risposta. È normale. Aiutatemi ragazzi. Aiutatemi. Prossima informazione. Prossima informazione. Nome di Battesimo? 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 No. Vabbè, non pare se ti suggerisco. Vabbè, non pare se ti suggerisco. Vabbè, non pare se ti suggerisco. No, non mi stai suggerendo. Vabbè? Rosalba. Brava. Ah, che bello. Devi sapere che il suo nome d'arte... Sì, perché per fare arte c'è un nome che giustamente non come fanno a dire... Esatto. È un acronimo. Un acronimo. Un acronimo. Un acronimo. Cioè... Sì. Tutti i familiari... No, ma tutti quanti. Sono quelli più stretti. Ah, quelli più stretti. Ma veramente? Esatto. Una cosa molto bella questo fatto dell'agromano. Lei... Io so tutto, eh. L'ho studiata. Biografia... Biografia... Ha vinto il festival di Sanremo con tra le proposte... Ah, sì. Con sincerità. Ah, che bello. Ha vinto il Sanremo con sincerità. Senza sotterfugia. Ma parli sotterfugia. Ma parli sotterfugia. Scusa. Ma ci dici se con sincerità è il brano. Sincerità. Scusa. Ma fammi capire. Mette una pausa. Mette una piccoletta. Aiuto il Sanremo con sincerità. E io capisco. Scusa. Come fa sincerità? Sincerità. Come fa? Sentiamo? Adesso è tutto così semplice. Aspettate. Andate avanti. E sei l'unico complice. Io la so. È per lui. Ma com'è? Io la so. Non sa niente. Faccio tutto cosa. Ho già studiato. Poi. Ha partecipato anche ad altri festival. Altri festival. Sì. Al tempo indeterminato. Al tempo indeterminato. Con tutti i contributi. Ah che bello. Sì sì sì. E ha vinto anche l'inizio nel 2014. Con. Controvento. C'è l'induzione. Controvento. E come c'è andata? Controvento è il brano. E poi. Se ha vinto il sereno. Controvento. Ma quando mai. Vabbè. Comunque. Andiamo avanti. E' stato anche giudice agli X Factor per tre edizioni. Sì sì. Lo so. La quinta. La sesta. E la settima. No. La decima. Vabbè. Che succede di sbagliare? Speriamo che almeno si ricordi il nome. Signori e signori. Ecco a voi. Anissa. Direi che sbagliare? Allora. Vabbè. Sì. Certo. Vabbè. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.